Tutti sanno che chi guida dopo aver assunto alcol o droghe diventa un pericolo per se stesso e gli altri. Allora, perché ogni anno più di 6.500 incidenti stradali sono causati da alcol e droghe? Perché gli incidenti sono la prima causa di morte per i giovani dai 15 ai 24 anni? Oltre il 90% degli incidenti potrebbe essere evitato con comportamenti prudenti. Non farti guidare da alcol e droghe. Non farlo.